An Agrigento, nella sede di Confcommercio, in via Imera, i rappresentanti di Unicredit e Confcommercio hanno firmato un accordo di collaborazione per avviare un programma di sostegno alle microimprese attraverso lo strumento del microcredito, spesso escluse tali imprese dall'accesso ai prodotti e servizi bancari tradizionali. Confcommercio Agrigento, selezionata da Unicredit come partner del programma del microcredito, valuterà le caratteristiche del progetto e la sua sostenibilità economica e finanziaria. L'accordo con Confcommercio di oggi si inquadra in un ampio progetto che ha lanciato la banca Unicredit, il progetto chiamato Social Impact Bank, proprio per venire incontro alle piccole e le microimprese che hanno sempre più difficoltà a stare sul mercato, per cui trovare un partner affidabile che possa fare un'attività di scouting, selezione delle migliori idee imprenditoriali. Noi a questo punto mettiamo il microcredito a 25.000 euro, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia, quindi consente un po' di allargare anche le maglie del credito stesso. Quindi noi pensiamo che questa forma di collaborazione possa ampliare la platea di imprese che possono accedere al credito e su questo noi contiamo molto. L'accordo nasce perché Unicredit si è dimostrata negli ultimi anni abbastanza sensibile a quelle che sono l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Oggi materialmente diventiamo assolutamente partner e privilegiati di Unicredit per sviluppare il loro microcredito. Di fatto finanziamenti fino a 25.000 euro per tutte quelle piccole e medie imprese che hanno o una difficoltà nell'acquisto dei servizi o qualche difficoltà nel pagamento degli stipendi o addirittura vogliono evolversi e quindi fare anche una formazione professionale, abbiamo la possibilità di finanziare queste tre tipologie di prodotti fino al punto massimo di 25.000 euro in 5 anni. Un finanziamento che è rivolto soprattutto a quei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa e che naturalmente in assenso quasi di garanzie si trovano in difficoltà ad avere rapporti con l'istituto bancario. Quindi le start-up giovani che naturalmente si avviano e si affacciano al mondo del lavoro oggi hanno questa importante possibilità. Non solo, c'è anche la possibilità grazie all'accordo con Unicens di avere un consulente dedicato che a chiamata naturalmente può dare quelle piccole dritte agli imprenditori sui prodotti su cui poter investire. È un accordo che sottoscriviamo con grande piacere anche perché materialmente saremo noi l'associazione quasi i garanti del cliente, quindi un servizio a supporto delle nostre imprese e di quanti vorrebbero avvicinarsi al mondo imprenditoriale, al mondo di ConfuCommerce.